Il progetto Podcast è nato durante la pandemia in DAD per avviare una sperimentazione di didattica innovativa digitale. Questo progetto mi ha insegnato a non essere più timido, a rispormi con delle idee ben chiare. La prima volta che sono andato in onda ho provato delle forti emozioni. Un'esperienza molto formativa soprattutto perché è nato in DAD. Mi ha aiutato molto a cambiare la mia idea sulla gentilezza. Perché comunque essere gentili è sicuramente più forte che essere una persona scolbutica, arrabbiata. È stata un'esperienza molto stimolante che mi ha portato comunque a volerla continuare. La WebDV è un progetto che dà la possibilità ai ragazzi di realizzare servizi dal loro punto di vista. Per far capire che questo territorio non è solo negatività ma che c'è del buono e che può portare veramente tanto bene. Grazie a tutti.